Avete fatto parlare di quest'isola in tutto il mondo, quindi complimenti agli organizzatori, avete fatto un lavoro splendido e l'idea quest'anno, come anche gli anni passati, di poter coniugare anche altre iniziative, tra cui quella che stiamo facendo oggi con un focus sui trasporti, la ritengo assolutamente un'idea premiante e palida. Cosa possiamo fare? Però ci darei a dire cosa abbiamo fatto già in pochi mesi. Oggi per raggiungere tutte le isole siciliane ci siamo ripromessi di non utilizzare mai più il termine isole minori. Che brutta cosa, isole minori, come se fossero delle isole peggiori o più piccole rispetto alle altre. Noi sappiamo che l'importanza delle isole non è data rispetto di chi le abita, non è data rispetto alla grandezza, ma tutti i cittadini siciliani e italiani hanno il diritto di avere gli stessi servizi che hanno gli altri. Allora cosa abbiamo voluto fare in questa finanziaria su proposta del governo Eschifani? La possibilità di mettere la gratuità per tutti coloro che hanno dei lavori, degli impeghi pubblici. Cosa succedeva nelle isole? Dalle scuole ai presidi sanitari non volevano venire a lavorare perché i costi del trasporto venivano totalmente ad assorbire lo stipendio che percepivano. E allora cosa abbiamo fatto? Questa è stata data da un'idea che...